Genitori sul piede di guerra per la carenza di pediatri di libera scelta sul territorio del distretto sanitario di Eboli. Il problema nasce dal trasferimento di un pediatra che operava fra Eboli e Campagna e che nei giorni scorsi è stato trasferito in un'altra zona. Una decisione che ha messo in difficoltà i genitori dei piccoli pazienti che si sono rivolti all'ASL per chiedere spiegazioni e per risolvere la questione. Il problema infatti è che molti dei pediatri rimasti hanno raggiunto il limite massimo degli assistiti, rendendo ardua l'impresa dei genitori di trovare un altro medico per i loro bambini.